Un altro incidente mortale, ieri sulle strade calabrese è stata una giornata di sangue e dolore. Una donna di 56 anni ha perso la vita sulla strada provinciale 63 che da Crotone conduce alla vicina città di Cutro. La vittima, Rita Rena, viaggiava a bordo di un'auto Citroen C1 assieme a altre due donne, rispettivamente di 49 e 69 anni. Una delle due era alla guida del mezzo che in un tratto in cui la strada si restringe si è scontrata con un furgone Citroen Jumpy guidato da un uomo anche lui di Cutro. Il tutto è per causa ancora che sono in via di accertamento. La donna è deceduta sul colpo mentre le altre due che erano a bordo della vettura sono state portate in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. Illeso invece l'uomo alla guida del furgone sul quale viaggiavano pure una donna di 35 anni e una bimba di 5 che non hanno riportato lesioni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone per estrarre dalle lamiere il colpo della donna deceduta e le due donne ferite. I carabinieri della stazione di Cutro hanno eseguito i rilievi del caso e le indagini sono in corso per cercare di ricostruire la dinamica di quanto è successo.